Un regista che ci parla della magia, del cinema come incantamento, ma che anche quando ci porta nel passato o ci fa entrare in biografie importanti non dimentica mai il rapporto con il singolo, con l'individuo. Ci parla di individui che faticano a trovare il loro posto tra le persone della società e che cercano sempre di ridettinire la propria identità e per questo che c'è un rapporto tra il grande schermo ed ognuno di noi. Mister Todd Ames. Welcome back from the Piazza Grande. And in order to give the part of the honore to Todd Ames I call on stage also in Olivia Sayas. It's really a great pleasure and a great honor to be here next to Todd Ames and to have the, you know, to give him this prize. He is someone I've always admired since his beginnings. I think he's one of the great inventors and one of the great modern artists of cinema and and it's the first time we meet and I'm very happy to be telling him my admiration in front of such a great crowd. So. Thank you so much for the work. Thank you so much for the work. Thank you.